I Valle Savio si conferma squadra regina dei Parigi, settimo in nove gare, riuscendo a mantenere l'imbattibilità stagionale di fronte alla nuova felta, che tra l'altro ha perso l'unica gara in casa con il Miramare, autore di una buona prestazione. L'undici di Fabio ha mostrato un'ottima condizione fisica e ha creduto fino all'ultimo nella vittoria, trovando però una squadra ben disposta in campo e solida in difesa, che ha saputo difendere il risultato di parità. Tra l'altro le due squadre si erano già affrontate due mesi prima in Coppa Emilia con il risultato finale di 1-1. I più tiri in porte della nuova felta, terzo Tommaso Raffaele del limite, riesce a calciare ma una deviazione smorta la conclusione tra le braccia di Baldazzi. Più pericolosi Valle Savio al quinto minuto, Balestra cambia gioco sulla destra per Donati, che di destro impegna con un diagonale insidioso, l'ottimo Semprini, abile a respingere di piede. A quattordicesimo Catalano si prova direttamente da calcio piazzato, palla alta sopra la travessa. La gara è equilibrata da una punizione di Pacchioli, farà veicoli e provvidenza nella chiusura in corna di testa, proprio nell'anticipo su Melli. Ma al 27esimo in nuova felta, davvero una grande occasione per passare in vantaggio, Gori a centro campo e stirpa un pallone dai piedi di Gridelli. Amanza palla al piede, di destro inventi in profondità un assist per Stefanelli, che si ritrova in autostrada verso la porta. L'attaccante sanmarinese è entrata in area, ci prova con un diagonale. Baldazzi è strepitoso, rimane in piedi fino all'ultimo e devia il tiro. Ancora il giallo blu di Fabio al 37esimo vicino al bersaglio, punizione sulla destra che Rinaldi batte alla soterra per il tiro di Stefanelli di più attenzione all'altezza di dischetto. Palla di poco a lato, alla sinistra di Baldazzi. La tranquillità della capolista si vede anche nel disimpegno non certamente facile, ad opera dei portieri Emanuele Sempini con i piedi. Davvero bravi i ragazzi di Fabri. A inizio ripresa, Rossi riporta Gridelli in difesa, sostituendo la sera e inserendo l'attaccante Tontini. Dopo 4 minuti, tacco di Stefanelli al limite dell'area, Baldazzi anticipa in uscita bassa, Tommaso Raffelli. A 55esimo, Corri di Rinaldi da destra, Catalano rischia la torreta di testa, palla che termina fuori di un nulla. Ballesavi in confusione, qui Bossini, Permelli, colpo di testa ampiamente al lato. Pericolosa la squadra di casa al 61esimo con la pulizione di Tontini, mancino delizioso a scavolcare la barriera e a sfiorare l'incrocio. Dall'altra parte, Gori in profondità mette un invito a nozze per la corrente Raffaelli, ma qui è strippitoso nella chiusura Cervino, sferando tra l'altro l'autogol. Altra punizione di Tontini dalla distanza, Sempini non si fa attraire dallo strano rimbalto della sfera. Parata non certamente facile. A 73esimo, Enne è entrato Mamutai a corsare da sinistra, ma Fattori e Gori non riescono a deviare il pallone vicente in fondo alla rete. Cupido alla distanza, prova lui a inquadrare il bersaglio, senza nulla di fatto. All'82esimo, il nuovo entrato Fragoni, tocca il suo primo pallone dopo l'ingresso in campo, calciando una bellinosa pulizione mancina, che trova la deviazione finale di Cupi. Palla fuori, di un nulla. L'ultima azione del match arriva sempre dal traversone di Cupi, colpo di testa a servire Stefanelli, che a sua volta serve un assist per Baldinini, che di più intenzione calciava la mente. E qui si conclude una partita molto tattica, ben giocata da ambedure squadre, con il Nuova Fetea maggiormente pericoloso. Quello che è mancato a Nuova Fetea, solo i gol per poter continuare a comandare in solitudine.